Il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri è onnipresente mi sembra dappertutto, anche questa sera qui alla manifestazione di Libera. Sì, vabbè, mi viene da sorridere non perché lo prendo come un complimento, perché può essere pure la scarsa capacità di incidere positivamente su alcune cose, quindi uno poi si nasconde dietro la presenza puntuale, però è chiaro che per osservare i problemi, comprenderli e cercare di trovare le soluzioni e per chi come me ha un interesse a puntare a trovare soluzioni nel futuro prossimo, cioè con un impegno politico di rilevanza diversa rispetto a quello che stiamo vivendo adesso come istituzione, consiglio provinciale, è chiaro che è importante conoscere anche attraverso la presenza sia assidua, ma soprattutto una presenza che veda il nascere di manifestazioni che dicano qualcosa alla gente. Questa di Libera stasera io non sono uno per le facciate del proan, diciamo che Gerbera gialla, difesa della legalità come bandiera, sono per difendere la legalità attraverso misure concrete, attraverso la vita quotidiana, attraverso gli insegnamenti che un genitore può dare a un figlio, che un insegnante, io tornerò presto a fare l'insegnante poiché adesso sono in una sorta di aspettativa per incarico politico, e sono perché l'insegnante, diciamo, porti buoni esempi. Ieri, anzi avanti ieri, Legambiente ha fatto una bella manifestazione per contestare questa ancora insistenza di Eternit in abbondanza presso una località, presso la località di San Lorenzo, allo Svincolo dove c'è la vecchia fabbrica di pipe. In quella circostanza Legambiente ha sollecitato la presenza della scuola, quindi la scuola d'infanzia e la scuola elementare, che insieme a noi hanno fatto una visita e hanno potuto constatare quanto possa fare male attraverso poi le spiegazioni, quanto possa fare male l'amianto, attraverso le spiegazioni che poi l'insegnante è riuscito a dare, anche in termini forse che un po' li ha spaventati, ho visto dei bambini preoccupati facendo delle domande, però questo può servire anche a loro ad approfondire, a prendere le distanze rispetto a un fenomeno negativo. Lo stesso fenomeno negativo può essere, anzi certamente in misura diversa e in modi diversi, la illegalità diffusa che si può identificare nella mafia, nel malaffare, appunto nel non rispetto delle regole, certe volte in modo odioso, che possono essere antipatiche come quella che noi comunemente chiamiamo mafia, ma appunto la prevaricazione in generale. La lotta alla mafia passa anche attraverso queste serate, diciamo così? Certamente, ho notato, io non sono intervenuto prima, vi ringrazio quindi dell'opportunità di farmi parlare perché questo è un messaggio che poi va alla gente, magari hanno l'opportunità di conoscere anche sommariamente il mio pensiero, ho volutamente evitato di intervenire, anche se qualcuno, diciamo, seduto con me mi sollecitava, non l'ho fatto per non rovinare una manifestazione che non aveva assunto una veste di passerella, una veste politica, ma ha dato dei messaggi belli. Mi è piaciuto da parte di Mimmo Nasoni il ricordo al giudice Livadino, uno, diciamo, che veramente ha combattuto questi principi di illegalità come la mafia ed è appatito con la propria vita. Io poi ho un atteggiamento, forse maturato con la mia militanza nel partito gialista, anche se sono relativamente giovane, è una storia familiare, un atteggiamento garantista. Certe volte questo atteggiamento si scontra un po' con la lotta alla mafia, nel senso che non mi trovo spesso a difendere dei mafiosi, mi trovo però spesso a contestare l'abuso di custodia cautelare. Probabilmente le due cose si avvicinano e si intrecciano e il confine, certe volte è difficile individuarlo, cioè il confine in cui la difesa strenua della libertà anche attraverso il contestare l'abuso di custodia cautelare, poi può eccedere e quindi arrivare addirittura non ai livelli di illegalità provocata dalla mafia, certamente, però io sfido chiunque da innocente e da non mafioso trovarsi in una situazione di errore giudiziario, per cui se i padri costituenti, se chi ha fatto leggi ha concepito tre gradi di giudizio è chiaro che è bene che siano mantenuti questi. Mischiare questi argomenti oggi è complicato e io non mi ritengo all'altezza di farlo come approfondimento, lo posso fare in modo superficiale e devo apprendere molto ancora su questi temi. Certamente, certamente, Libera e la Libera Melitese, non parlo della Libera Nazionale, si sta organizzando in modo tale da mandare e lanciare un messaggio forte contro la criminalità, contro la mafia che è veramente da sostenere e un messaggio che ritengo tranquillamente anche mio e che voglio portare avanti. Questo, senz'altro, è un mio impegno, un mio impegno personale. Cercherò di farlo anche, se riesco, come buon amministratore. Certamente questa fase della provincia mi vede fuoriuscito dalla maggioranza per motivi che non è opportuno ribadire adesso, denunciare adesso, ma sono motivi per cui non mi ritrovavo nella possibilità di operare anche a favore di questo territorio e quindi ho scelto di fare questa uscita dalla maggioranza in un periodo delicato, a ridosso di un rinnovo del Consiglio regionale e della istituenda città metropolitana, per cui la lettura dei fatti sarà difficile farla a freddo, bisognerà farla a caldo, bisognerà farla dopo, con un momento di riflessione più tranquillo. Certamente ho notato stasera un'assenza degli amministratori locali che potevano esserci. Certo, capisco pure gli impegni istituzionali, quindi i sindaci, gli amministratori dei comuni vicini probabilmente avranno avuto i loro impegni. Oggi io li capisco perché appunto dall'interno delle istituzioni si è continuamente sollecitati per cose interessanti anche a difesa della legalità, per cui non poter essere assenti. Però anche persone della città di Melito, che è la città più popolosa dell'area grecanica. Il più grosso centro fra Reggio Colabbi e Locri. Esatto, abbiamo visto molte presenze qualificate, gente vicina alle associazioni, costantemente impegnate sul sociale, ma poche persone fra chi punta a essere il nuovo sindaco, il nuovo consigliere regionale, il nuovo amministratore di questa cittadina. Eppure era stata pubblicizzata questa manifestazione? Non voglio entrare nel merito, però io da Bova Marina con qualche impegno ho ritagliato questo tempo perché ho ritenuto importante, così come era organizzata stasera questa manifestazione di Libera, appunto per me che non sono uno della vetrina per l'antimafia, ma sono per farla concretamente, ho ritenuto che il messaggio di Libera stasera era forte e chiaro e andava sostenuto. Quindi mi limito qui le analisi. Bene, ringraziamo il Globetrotter della politica, Pierpaolo Zavettieri, gli facciamo i migliori auguri. Grazie a voi.